Venerdì 27 dicembre la sede del Consiglio regionale a Palazzo Lascaris e tutti gli uffici dell'Assemblea sono chiusi. Una necessità dovuta all'esigenza di risparmiare sui consumi di energia e sui costi legati alla sicurezza, in uno dei momenti in cui si concentrano comunque le assenze di gran parte del personale. Il palazzo rimane chiuso anche nei giorni di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2014. Gli uffici sono invece regolarmente aperti il 30 e 31 dicembre.